Buonasera signori e signori, oggi siamo qui per parlare del torneo Don Bosco, oggi si faranno le estrazioni ufficiali come vedete qui sullo schermo, si parlerà del girone A e girone B di calcio, quindi passo la mia parola a Yannick Mason che inizierà con il girone A. Bernard Scotti Nel primo girone ci sarà i Bernard Scotti Seconda Quarto piano, fit, bienio e maschile Come seconda squadra ci sarà il quarto piano, fit I Gapri Carlo fa schifo Ora inizieremo col girone B Oh Dio Bienio maschile Come prima squadra ci sarà il bienio maschile Quarto piano Quarto piano Come seconda squadra ci sarà il quarto piano Sdb team Come thirda squadra il girone B sarà le Sdb team Usmatti FC Usmatti FC Dopo aver parlato delle estrazioni del girone A e B di calcio parleremo delle estrazioni di girone A e B di pallavolo Passo la mia parola a Presidentessa Benedetta Guidoli D C2H5OH D C2H5OH C2H5OH La seconda squadra sarà le Queens SDB Come terza squadra ci sarà la SDBST Come quarta e ultima squadra del girone A di Palavolo ci saranno i sette nani Le Capre Il girone B di Palavolo ci saranno le Capre Le vecchie ma non troppo Come seconda ci sono le vecchie ma non troppe Mangoloco Come terza squadra ci sarà il Mangoloco Mangoloco Come The Mystery Team Come ultima squadra del girone B di Palavolo ci sono il Mystery Team E domenica 13 febbraio Sabato 19 febbraio E domenica 20 febbraio E sabato 26 febbraio Domenica 27 febbraio Succi... Che vinca il migliore Altyazı M.K. Grazie a tutti